Lettura, Vangelo e Commento Dal Libro dei Proverbi Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza e la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, per la sua bocca è sconoscienza e prudenza, Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli, allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Pietro disse a Gesù «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro «In verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi sui dodici troni, a giudicare le dodici tribù di Israele, Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna». Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati questo giovedì qui su Via della Fede per scoprire un Vangelo che parla davvero di libertà e parla di vita eterna. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Benedetto o Benedetta perché è proprio la ricorrenza di San Benedetto da Norcia che fu davvero il patriarca del monachesimo occidentale, fu uno davvero dei grandi della Chiesa Cattolica. Chiediamo a Benedetto un aiuto per comprendere queste parole, questi passi del Vangelo cominciando con il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, concedici o Paraclito la tua intelligenza perché mediante questa possiamo comprendere queste parole del Vangelo che ci avvicinano al nostro Padre che è nel cielo. Padre, donaci anche oggi il tuo amore perché qui siamo davvero molto bisognosi. E dunque, in quel tempo, Pietro disse a Gesù noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? Apparentemente potrebbe anche sembrare una domanda un po' meschina, io ti do, tu mi dai, uno scambio. Ma è una domanda che profondamente ognuno di noi si fa, cioè perché seguire Gesù? Io ti ho seguito ma in fondo perché lo faccio? E per seguirti ho lasciato anche tutto. Quindi dove ho fatto bene? Cioè in questo senso Pietro cerca di capire non solo il Cristo ma quella parte spirituale nel seguire Gesù che è di difficile comprensione agli occhi materiali. Dunque perché seguire Gesù? Ed è una domanda lecita che ci possiamo fare anche noi. Vediamo come Gesù risponde poi a Pietro e dice in verità io vi dico voi che mi avete seguito quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria alla rigenerazione del mondo siederete anche voi sui dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Dunque a coloro che seguono Cristo Gesù promette un regno un regno che non è di questo mondo quando questo mondo appunto sarà rigenerato ci sarà un regno intero per loro saranno seduti con Gesù addirittura gli apostoli sui dodici troni per giudicare le tribù di Israele. ecco che il Signore promette un regno nuovo un regno diverso un regno che è in contrapposizione con questa terra questa cosa ci dovrebbe far riflettere noi viviamo in questo mondo ma cerchiamo un mondo dove non ci siano ingiustizie dove ci sia amore dove ci sia fratellanza dove ci sia gioia ecco Gesù chiede il vecchio regno per poterlo trasformare e darcene uno nuovo pieno di queste cose che noi andiamo cercando nel nostro cuore scusate dunque chiunque avrà lasciato case fratelli o sorelle o padre o madri o figli o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto quindi è chiaro è Gesù in queste parole le opere che noi compiamo devono essere compiute non per noi stessi perché noi per esempio possiamo lasciare la nostra famiglia i nostri figli nostra moglie perché abbiamo trovato magari la moglie un'altra donna i figli perché ci hanno stancato e decidiamo di andare via di casa quindi fondamentalmente per nostra convenienza no il signore è chiaro chiunque avrà lasciato per il mio nome queste cose cioè se l'opera che io compirò sarà nel nome del Cristo nel nome di Gesù Salvatore allora avrò questa ricompensa ma che cosa significa fondamentalmente lasciare case fratelli sorelle padri quando quando si parla di lasciare qualcosa beh parliamo sempre di fare qualcosa di molto difficile perché noi ci medesimiamo nelle cose che abbiamo ciò che sono in nostro possesso cioè le cose che sono in nostro possesso sia persone che oggetti soldi case campi ci dicono chi noi siamo noi ci medesimiamo in queste cose ma nello stesso tempo queste cose ci identificano ci ci gratificano ci fanno ci danno qualcosa di saldo no per cercare di farci vedere fondamentalmente chi siamo alla luce degli altri alla luce del mondo cerco di spiegarmi meglio noi abbiamo delle case abbiamo delle macchine ma se perdiamo le macchine già siamo in grossa difficoltà se perdiamo se perdiamo la casa non siamo già più nessuno veniamo cancellati dalla società perché sei considerato un senza tetto un senza niente quindi la considerazione che noi abbiamo di noi stessi è legata a qualcosa di materiale in cui noi ci identifichiamo ma che con noi non hanno niente a che fare perché il tuo cuore non ha niente a che fare con ciò che tu hai nelle tue tasche è il tuo modo di essere di amare non c'entra niente col fatto che hai qualcosa oppure no anzi coloro che non hanno mostrano più grandemente la loro scusate c'è un po' di tosse più grandemente la loro capacità di amare e di vivere il Cristo con il prossimo quindi però noi no noi siamo legati a queste cose allora questo Vangelo ci parla di libertà ci dice coloro che lasciano queste cose fratelli sorelli madri padri figli campi nel mio nome io darò a loro il centuplo cioè questa è è la cosa incredibile riceverà cento volte tanto ma cosa vuol dire che io lascio una casa o lascio un padre e ricevo già cento volte tanto nel nome di Dio vuol dire che queste cose non solo ci tengono legati ma in questo essere legati c'è la perdita della libertà cioè il Signore ci ridà queste cose purificate ce le dà per viverle nel modo giusto ce le dà in maniera tale che noi possiamo vivere ciò che noi abbiamo senza essere però prigionieri quindi la gloria di Dio il centuplo di cui Dio parla comincia già qui su questa terra in questo momento perché quando qualcuno a noi ci toglie il lavoro beh ci ha levato la vita il Signore dice guarda figlio mio che non è così io sono la via la verità e la vita quando perdi me perdi la tua vita non quando perdi la casa il lavoro o le persone che ti sono vicine dunque in questo muoversi di Gesù in questo vortice d'amore Gesù ci spiega che noi possiamo cominciare a ottenere una vera libertà ed è lui che ce la concede perché ci fa capire come vivere queste cose che seppur sembrano buone vengono vissute in maniera malata da coloro che abitano il mondo mentre alla luce degli occhi di Cristo queste cose si santificano e diventano davvero cento volte tanto ed infine il Signore parla di qualcosa che abbiamo visto anche nel Vangelo di ieri parla di una di una sconfitta della morte perché alla fine case fratelli sorelle madre campi noi lasceremo comunque tutto al momento della morte ma Dio Gesù ci parla di un regno che è oltre la morte ci parla di una promessa di un regno oltre questa vita e ci dice ci garantisce ci promette che ci darà la vita eterna una vita dove la morte non avrà più voce in capitolo ecco dunque che anche qui ciò che il Signore è venuto per fare viene rivelato in queste poche righe del Vangelo in maniera molto forte e in questa vita eterna noi riavremo tutti quegli affetti che anche sono persi no perché crediamo di averli persi come persone care che non ci sono più e sono morte ma finché queste persone vivono nel nostro cuore noi le facciamo vivere oggi sulla terra insieme a noi e quando domani noi non ci saremo più noi potremmo vivere davvero non solo spiritualmente ma anche fisicamente con loro in questo nuovo regno in questo nuovo mondo in questo paradiso che Gesù ci promette dunque che il paradiso possa scendere già oggi nel tuo cuore grazie a queste parole del Vangelo di Gesù e che la benedizione di Dio discenda su di te sui tuoi cari sulla tua famiglia e se queste poche pochi commenti se questo tempo ti è stato utile che abbiamo passato insieme ti chiedo di ricordarti nelle mie preghiere poi se potete mettete anche un pollice in su condividete il video così mi aiutate anche nel nel cercare di diffondere la parola di Dio per poter portare a qualcun altro una parola di conforto noi io noi col Padre vi ringraziamo davvero tantissimo e che ancora la benedizione di Dio sia con voi in questa giornata e ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti